La speranza è sicuramente quella di vincerla, sappiamo sicuramente che sarà durissima, giochiamo la prima contro i padroni di casa, è un ostacolo in più sicuramente, però sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, siamo stati bravissimi ad arrivare fino a qua, adesso andiamo là e proviamo a fare il nostro meglio per fare il miglior risultato possibile, sono molto contento perché è un traguardo isperato, perché a metà anno nessuno ci credeva sicuramente, siamo stati molto bravi, adesso tocca a noi, sarà dura però ci proviamo. È stata sicuramente un'esperienza positivissima, sia per me ma anche per la squadra, direi a questo punto, mi ha aiutato sicuramente tanto a crescere come giocatore, perché comunque ho affrontato anche avversari squadre europee, che comunque è un basket diverso rispetto a quello italiano, quindi sicuramente mi è servita molto e sì, mi è servita molto. Beh, è un sogno, però siamo qui, proviamoci fino in fondo.